La città di Bologna 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 Appena arrivato ho approfittato per fare un bel giro e godermi il bellissimo centro della città Sicuramente girare sotto i portici di Bologna è qualcosa di molto particolare quasi magico un posto in particolare direi Piazza Santo Stefano e le Sette Chiese un posto in cui mi piace molto andare Mi manca solo il mare però ci sono parecchi posti che portano il cuore e che sono proprio belle Bologna è perfetta per una costruzione di squadra per un viverci ne stavo parlando l'altro giorno con i ragazzi nuovi arrivati specialmente con IFE gli ho chiesto appunto come si trovava ha detto è perfetta cioè mi hanno proprio detto lui è perfetta io glielo ho chiesto perché anche io ero di quel parere Bologna è una città molto viva quindi si respira un po' l'elettricità che poi avverti anche con i tifosi durante le partite è molto accogliente la gente è sempre disposta a far due chiacchiere o un po' di balotta come si dice qua La preparazione di una stagione inizia il giorno dopo la chiusura della stagione precedente è stato facile poi integrarsi e insomma riprendere le cose da cui ci eravamo lasciati l'anno scorso sono stati in touch con i tifosi i tifosi di un grande lavoro in termini della stagione in termini della stagione il mio sentimento è che ora bisogna andare al prossimo che è un'attività è un'attività con la capacità di capire con l'attività ora 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 il nostro contatto è stato quotidiano sia con Sergio o con il club e dopo ogni allenamento facevamo un punto comunicando tramite essenzialmente messaggi vocali su WhatsApp che è un modo in cui uno anche quando ha tempo con i tanti impegni e soprattutto il coach con la nazionale poteva ascoltare le nostre idee e proporci le sue i tanti impegni il coach Sergio è uno dei più respetti coach in Europa mi piace davvero la sua filosofia è speciale e sa che è speciale ma è necessario è necessario un certo mindset per diventare un vennero e sappia che è un vennero ovviamente ha vinto molto e quindi sappia questo e perciò ciò 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 e poi ciò 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 e il focus su quello che fa e su quello che facciamo. Soprattutto l'attenzione e la cura dei dettagli penso sia al massimo che io abbia mai visto. Pensare alla squadra, ma al stesso tempo facendo magari delle sessioni di video individuali, ovviamente degli allenamenti individuali, insomma, concentrarti anche su te stesso. Sicuramente siamo uno staff numeroso in cui ognuno ha un proprio ambito tecnico da seguire, che può essere l'attacco, la difesa, il lavoro individuale, il lavoro statistico, quindi ognuno è messo nelle condizioni di mettere tutte le energie nella preparazione di un certo ambito. Questo da un lato dà molta responsabilità, dall'altro chiaramente ti porta a essere molto lucido in queste scelte. Adesso stiamo in pace, in questo modo. Non so nemmeno anche io. Si è avete come giusto. Quando siamo entrato in campo l'altro giorno con il ritorno dell'Eurolega, è stata sicuramente un'emozione particolare, però cercavo sempre di mantenere in testa la concentrazione del fare, quello che ci ha chiesto il coach di fare. È chiaro che l'Eurolega comporta un aumento della fisicità e quindi lavorare molto sulla parte fisica, sui contatti, quello è chiaramente importante. Il costruire un gruppo equilibrato, un gruppo con persone vere che abbiano il senso di sacrificio. Al fine del giorno bisogna sempre mettere l'ego per il miglioramento del gruppo e del gruppo. Se uno mette dieci mattoncini e gli altri ne mettono tutti zero, la squadra magari non vince, il singolo è il più bravo di tutti, ma la squadra non vince. Il focus è quello di costruire il miglior sistema, il più efficace sistema difensivo-offensivo usando ogni settimana come piccolo step. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! So, I think if somebody sees that, like maybe it could seem crazy, okay we have a guy who does that, what is he doing? But, okay, he wants this, so okay, now I want it also. And I hope that kind of inspires and more affects them. Let's go, mamma! Let's go! Let's go! Affiliation, you know, I've really, really felt that. As mentioned, this was one of the reasons I came here, and seeing the fans were that hyped, that made me even more hyped like okay, this is why I came here. E' una delle ragazze che sono venuti qui, per sentire questa atmosfera. Dobbiamo continuare a costruire, perché abbiamo i pezzi giocati, abbiamo il potenziale. Dobbiamo essere insieme ancora più. Quella potrebbe essere la vera scintilla di far capire al gruppo che è solido, compatto e che può ambire. La squadra può essere qualcosa. Può essere uno specifico gioco in un gioco, può essere un certo punto durante il gioco, che tutti si parlano o è super concentrato. Può essere la Super Cup, l'Italian Cup, o qualcosa. Può essere un certo gioco. Un altro gioco. La Super Cup è una competizione che tutti all'inizio snobbano, però quando ci sei tutti lo vogliono vincere. Però è sempre un trofeo importante, quindi è sempre bello portarlo a casa, è sempre bello alzare un trofeo con tutta la squadra e farlo con dei ragazzi che hai appena conosciuto sicuramente aiuta a crescere meglio e a stare meglio insieme. Una partita, un trofeo come la Super Cup sicuramente ti dà molta fiducia, perché evidentemente quello che stai facendo porta i suoi frutti. Non abbiamo fatto partite perfette, ma siamo riusciti a vincere. Quindi vuol dire che da lì bisogna ripartire per andare sempre meglio. Io mi sento che tutti hanno sentito la pressione di uscire, soprattutto in Milano, perché loro vengono in l'anno scorso l'anno scorso. Questo team può essere speciale, almeno è come mi sentito. Ciao! 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 Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due! Uno, due! Grazie.